ecco sta a fare il video principe stai comoda? principe come ti chiami? Mila da dove vieni? da brazil sono brasiliana sicura? basta principe ma quanta acqua sta a mettere? basta finita l'acqua sciogliete i capelli principe se non ho i capelli sciolti ma mi vai no? ah vabbè principe scusa sei un'attrice aspetta sto a fare il video eh corto o lungo? come vai sta a funzionare o no? ehm? aspetta un po' non ho capito se sta a funzionare il nostro coso si sta a funzionare chiudi facciamo un altro un altro